questo è il secco questa la puoi portare su questa la puoi tirare su tu aiutaci si è già chiuso non ho neanche fatto in tempo a partire figaro questa è già tagliata questa grossa sotto che tiene ma che riesci no ma questa è dura è dura di bestia vite ci ho la tua guarda qua e no c'è sotto quell'altra no è tagliarla la quella secca che tiene e quell'altra ma che è già tagliata è solo quella lì no quella lì è quella del ritorno è sopra però quella è quella che facciamo tornare indietro quando torniamo indietro la facciamo il resto e quella si la fa adesso quella non l'avevo vista no quella bassa che montagna non l'avevo vista non l'avevo vista eh sì teoricamente sì è più sicura che non passare da qua effettivamente grazie a tutti cazzo meno male che hai detto che non scivolano figaro sotto scivola che è una roba e meno male che hai detto che non scivolano guarda sui piedi su quelli di sotto figaro